Nuovi ulteriori tagli nel settore dei trasporti subbinari. Lo ha annunciato il vicepresidente del consiglio Andrea Di Lucente in un'intervista rilasciata ai media locali insieme alle promesse fatte sull'elettrificazione della tratta Roma Campobasso che dovrebbe concludersi entro il 2025. Forse un tentativo probabilmente poco riuscito di tranquillizzare i pendolari molisani costretti ormai da anni a ritardi e coincidenze mancate nella speranza di raggiungere la capitale. Tentativo quello dell'assessore allo sviluppo economico che non è passato inosservato agli occhi dei sindacati. Ed è proprio sul tema dello sviluppo economico in cui le infrastrutture giocano un ruolo fondamentale che hanno voluto soffermarsi in una nota stampa diffusa a poche ore dalla notizia. Lo sviluppo di un territorio si fonda sulla viabilità. Lo avevano capito i romani, grandi conquistatori, addirittura prima della nascita di Cristo. Ma questa logica sembra essere lontana a milioni d'anni luce dalla realtà regionale, dicono. Di Lucente ha parlato di tagli di corse che ha definito inutili, ma allo stato attuale sono solo otto quelle che coprono la tratta da e verso Roma, con vagoni sovraffollati e in cui si viaggia stipati come sardine. Con ulteriori tagli i pendolari potrebbero trovarsi a viaggiare sul tetto del treno come in India. Seppure le corse su binario verranno sostituite da quelle su strada, spostare il trasporto su gomma, mentre nel resto della stragrande maggioranza dei paesi si favorisce quello su ferro non solo è anacronistico, perché inquinante e perché peggiorerebbe la viabilità regionale, ma diventa un progetto assurdo se si considerano le condizioni delle strade regionali, osservano i sindacati. Rendere la vita ancora più complicata e pendolari significherebbe favorire lo spopolamento in una regione che sembra ormai destinata alla desertificazione demografica. Intanto, insieme alle organizzazioni dei lavoratori, sull'argomento è intervenuto anche il gruppo consigliare di Sernia, comunità attiva, criticando la scelta dell'assessore. I costi che si abbasseranno grazie ai tagli annunciati da Dilucente, sottolineano, non sarebbero per l'utente finale, che acquisterà il biglietto al medesimo prezzo, ma solo per le casse della regione.